ma che me ne fuuuuutta? Dov'è? Dov'è? Ha il loco Sto a scurare merda c'è ah, vieni, mamma mia, quanto non è andato a maggior parte del barco spalline ma che te l'amore ma che te l'amore ma che te l'amore ma che te l'amore mi sento un indu guarda come attacco ah, che te la ripetizione ma che si è che andrà ma che te la 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 se hai uno operativo 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 azzurro in giugno in giugno in giugno ma la sua tutta reale di oggi non contro un progetto su come un bel su ciao un po 4 fame il giro questo è il nome questo mangiungo via la pacca rete chiesa non è l'unico erano a lei attorno all'interno. lecce inquinata se devo acqua e lonti di pozzangra e pozzang sanguinata a proposito di terra ma comune come un po scoprano buona mandi con migliorato il mattoncino non ho scordato oggi faccio c e romani perché voglio proprio per il posto ogni uomo e gioco per amore c come si strutturano il figlio è la parte d'attacco che quando lo posso un buon anno a te che hai fatto marco è come un mondo non manda troppo quando c'è un pvp del pazzo come uno cavallo sempre c'è una cosa scusa senza criniera scusami cavallo senza criniera anche il titolo poi un uomo per conteggio da fauna yakimanga vicinanza e bassa e mette danni e lo vede che sono caro giurita tua amici letto ma io sincero se riesco prima fa un po di di posto magari più il picco un caldo però fatto è che ricordo che per finire da uno né della forza che un poca ragazzi da raggiungere un po cazzo cero cioè richiede un po di tempo con calma fortezza è sì perché c'è chi regola che domani a cavolare con archi pesante gli annemico numero uno possibile ma ma c'era parole quando il grosso ora no 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 che c'è da meraviglia inserire che sopra 3 4 urio almeno il grande numero ora io che è successo? ma se gli stai vicino e se non sbaglio i attacchi esplodono è accorto, non va avvicinato ma non esplode ma comunque quando faccio sto zumba è smettendere un giro di città perché spesso non va la resso via ho visto che ho fatto ma non è 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 fatto no, lo fa pure cioè esplode pure se non è alto il suo studio dipende tutto da raiz su che reggirà qua a capo dai, non fissa io è qua, tu, cazzo mi stai radusso ma qua te non fissa no, c'è chi sarà tosto su posto a me lo fa dimmi sono qua guarda vai a facciamo un giorno di secondo chi diritti questi distruttore alzullo 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 fai gli hai detto taglia 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 ma sai che basta che lo disende il nome alla fine invece a me con bippia io pure l'aveva pure la sua grande tutta che la parte da no che la più bella no 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 che arriva no 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 vedi ma no 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 che dice va no 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 va che vedi dove vado più a me pure le mix a me che la parte a me come in troppo la vecchia via bellissima tutto tutto non giù dici bra ma secondo te mi sembra se registrano ci si era fatte già non si chi se lo dice ma quando gli smettete dopo il dubb ben accorgi ma sorprese c'è un bel dono c'è un pochettino speramento da metà riascoltando tutta la lista caso maestri di strano non penso ma non è un punto di vista non sa mai c'è se volete parla si taglia taglia non mi c'è un po' la storia della gare agli annanze giallo no ma non è perchè andrà a fare la gioia se io titolo la puntata lo chiamo gioia è stato da capirci un riferimento no? e è una poca buttata a buttare? che so c'è un'altra filosofia con le ragazze ma qua vogliono andate nemmeno ma un telefono da questa città è da solo cucina e si mette e si mette la cosa soppurcia no? eh voglio quelli che però eh si si ma nessuno ha detto il punto di vista non c'è molto ah peppa no perchè sono a me chiesa bella però eh ora bene non hai visto a bicicletta pure sparati però posso troppo dai ebri 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 buona bene via uomo su sul cacca ma a muscol non non uomo ho uomo scoperta al ma non voglio mannaggino marco è una cosa che non ha morto per te allora oggi un'oglio voglio votare se ne è nata una volta per me che è questo è vero cagliare a posto era un morto arrabbate viaggio sembrerà quindi il cazzo che non è pura dei tanti c comunque le fasi su quella mi rassomiglio un posto ricavina nel senso che tu siamo in molti però finché non attacca non possiamo fare niente in più capi nè che dici lo distraiamo non del genere e quindi questo è fatto purano o una Roma più corretti un'edito pensavo che me lo scrivamo quella fiamma però m'ha pigliato di prove di strisce l'ha fatto il tuo bambino no un buon buon no 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 vai ora vai ora vai io ho corto c'è c'è un po' quasi morto mamma gioco fino a fino a 9 di po' un posto popolari maggie piaccia di roma per ora non è vero ma non è vero cazzo quattro un'unico un ingulo con lui ci sono il discorso che fa che stava ma sono come da un'altra ea 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 ciao a casa ce l'ho detto che se ciò che mi sa poco grandissimo mi ha salvato i primari il suo lavoro. posso ma ma il mio giasso è un maglis unire non vogliono che vuole come questo porto il toro che stanno indietro non posso non posso davvero vinto marco no ma ci parlo c'è un bucato alberto poteva il programma o che è successo aiuto visto che è entrato sotto terra proprio unico che vuole fare il seguito ma può fare il mio so questo è pesante che si tratta a me ne vediamo la nuova versione da un animo non cittadino fatigini salvezio il mio fuoco ora poi io così da soltanto il non sono meno pozzanga per fare che faccio appunto testo che cazze che sarà fatto io atto bruttissimo sottocco non ho fatto a manui hai fatto di amico attrino mia famiglia mamma del pubblico a terra ma sopporto appoggio stimolato ma chi ora ambo di lavoro per cortesia nancy la città per il rompice avendo acqua no siria marcom città il sistema di svema del mamma una volta quello il terremoto ultimando la distrazione di marco nella metà del tipo di alberto miso ingazzata non mi ha danno non so quando danni faccio 25 un posto di video 2.20 ora che basta ma c'è con un culo proficcio il terzo posto per perché ho fatto che si stava a registrare le stesse siti che stessi qua l'abbiamo quasi fatto tutti e quattro insieme quasi